Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Oggi volevo darvi un appunto molto rapido. Per chi ha visto, ha giocato e interessato al videogame Disney Epic Mickey, può trovare, a parte delle piccole chicche sul numero di Topolino 2870, anche dei fumettini, i primi tre di una serie di sei, incentrati sulla figura di Oswald, il coprotagonista del gioco insieme a Topolino, Oswald il personaggio dimenticato, il proto Mickey Mouse, il primo carattere realizzato da Walt Disney. All'interno appunto di questo numero puoi trovare tre brevi storie, ma molto colorate, molto divertenti, molto cupe. Vi faccio vedere qualche paginina. Come questa, ad esempio. Sono storie pressoché comiche. Sono storie abbastanza anche blande, dove vedremo Oswald che cerca di emulare anche le geste di Topolino. E appunto, ancora più interessante, Peter David scriverà una graphic novel su Epic Mickey. Quindi trovate già al dirà un sacco di informazioni all'interno del volume, trovate un sacco di approfondimenti sul gioco. C'era proprio un... Aspettate che lo trovo. Un piccolo articolo che illustrava tutto il mondo del videogame. Eccola qua. I nemici, i personaggi, un po' il sistema di gioco, spiegava un po' di cose. Quindi Topolino numero 2870, molto importante per chi vuole conoscere qualcosa di più su Epic Mickey. Ciao ragazzi, a presto!